Eriba Exciting 530, una proposta veramente unica nel segmento delle medie della casa di Batvalse per quel che riguarda le caravan che offrono qualcosa in più. In questo caso parliamo, come si vede nel fotogramma, di un tetto apribile a soffetto che consente di avere un letto matrimoniale sempre pionto in più. È una caravan che si presenta assolutamente in linea con quelle che sono le dotazioni che devono avere queste caravan nel proprio segmento. Notiamo ad esempio la D-Net AU alla tedesca e notiamo il solito gioco di pensili che sono perfettamente perimetrali alla D-Net, anche perché il vantaggio della D-Net alla tedesca è quello di offrire un certo tipo di pensili. La cucina anche in questo caso è quanto più di tradizionale si possa essere, ma la vera rivoluzione, la vera novità, sta nella botola, eccola qua. Tramite la scala si può accedere al vano superiore e quindi al letto matrimoniale in questo tetto a soffetto. Una soluzione veramente incredibile, bellissima. Qui vediamo, mentre stiamo cercando di rubarla, ma non ci siamo riusciti. Qui vediamo, ma non ci siamo riusciti. Qui vediamo, ma non ci siamo riusciti. In questo caso, chi vediamo, ma non ci siamo riusciti. Qui vediamo, ma non ci siamo riusciti.